Ciao a tutte ragazze e benvenuti sul mio canale youtube Ma cosa stai dicendo? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Nuovo giorno, nuova esperienza Oggi come vedete sono qui con un ospite molto speciale Si tratta di mia sorella Chiara E perché siamo qui? Vi chiederete Perché siamo qua per fare il videotag Mia sorella? Mi conosce come crede? Lo staremo a vedere A questo proposito abbiamo preparato una serie di domande Che mia sorella leggerà sul suo cellulare E io risponderò per lei e lei al posto mio Spero di essere stata Chiara insomma E poi vi lascerò tutte le domande qui sotto nell'info box Quindi iniziamo Nome Chiara Giada Soprannome Chia con la k Tada Età 16 Anche se mente sempre E si dà sempre un anno in più E io odio questa cosa Tu venti anche se tutti gli danno 16 anni Quindi la vita Due aggettivi che ti definiscono Una persona solare Che gentile che sono E E anche decisa Perché sa sempre quello che vuole Tu simpatica E E Studiosa Fin troppo Studia Mi piace studiare in continuazione Due tue difetti Permalosa Per malosa Infatti a volte Veramente con te non si può parlare E poi Un po' menosa Infatti a volte un po' la imito E lei si arrabbia Tu Impicciona Sì Un po' svogliata a fare le cose Eh sì Un po' sì dai Il giorno più bello della tua vita Quando sei andata in vacanza da sola l'anno scorso Sì per te era quando sono nata logicamente Sì Colore preferito Il tuo l'azzurro da sempre No Eh vabbè No ve lo giro che era l'azzurro Non vale cambiare però Chiara No è l'azzurro Il verde Sì Il tuo è rosa No Perché pensi sia rosa? Eh Vesti sempre rosa Non è vero Questo non è rosa E vabbè E' corallo Un azzurro blu Sì Ecco Un posto Mi scambiano mai? No Assolutamente no Colore preferito? Ops se l'ho già detta Mare o montagna? Eh tu Mare e lago Anche se non c'è Vabbè Lo aggiungo Tu il mare o O mare o oceano Qual è il mio cartone animale preferito? Le super chicche No Le Winx Sì Ah E tu mi chiedi Le super chicche No Le witch E quando ero piccola Sì Però adesso vedo altri cartoni Sì Qual è? Eh tipo Il detective Conan Ah vabbè Oppure quelli della Disney Tutti li vedo Qual è il mio animale preferito? Conigli Ne hai avuti un botto Sei Sei già tu una coniglia Eh il tuo Il tuo Il nostro cane Cervino Sì Qualche volta ve lo farò vedere Troppo tenero Quando è il mio compleanno? 25 ottobre 8 mangio Cibo preferito? Eh Cocco E Beh la mattina Dovreste vedere cosa si mangia per colazione Dei pastoni con lo yogurt Poi cosa ci metti? Bacche di goji Semi di chia Sì vabbè Lei è una tutta Sofisticata Tu Tutto ciò che è commessibile Sì Io Dovete sapere che mangio Mangia tantissimo Cioè Tantissimo? Non ho avuto idea E più mangio Più dimagrisco Questa cosa non me la spiego Negozio preferito? Bershka Lush Qual è il mio segno di soddietà? Scorpione Toro Cioccolato bianco o nero? Tu fondente Tutta la vita Tu al latte Sì Cantante preferito? Ti piace la musica italiana Ad italiano direi Tiziano Ferro Sì anche quella spagnola Ultima domanda Ma non meno importante Una cosa che non supporti Peccato che devo rispondere al tuo posto e non per me Comunque tu non sopporti gli ascensori Sì Beh Qualche volta Dai non sempre A volte sono carina E coccolosa Sì Poi Anche quando Chiedo I fatti tuoi Perché Sei una persona tanto riservata E quando ti sveglio Sì Non si può sentire Mi sveglio un pochino Alterata Tu Le persone in generale Ah beh sì Io Sì Beh vuoi dire qualcosa Alla fine di queste domande Mettete mi piace al video Perché ci sono io Sì vabbè adesso Iscrivetevi al canale Ti sei sentita in imbarazzo No sono mio agio Si vede effettivamente Voi cosa ne pensate Anch'io E poi Penso sia suo agio Venerdì Vi aspettiamo venerdì Con il prossimo video Ciao Ciao Mi ha rubato il canale ormai Ciao